Sono Antonia Klugman, la proprietaria di L'Argine a Vencò ad Olegna del Coglio, un piccolo ristorante immerso nel Coglio, sul confine con il Coglio orientale e sul confine con la Slovenia. Il nostro ristorante ha aperto le porte nel 2014 e fin da subito la questione della sostenibilità è stata una delle basi per molte delle scelte che abbiamo fatto. Soltanto la costanza però del lavoro è un'equipe forte, ci hanno consentito con il tempo di occuparci di ricerca e sviluppo sul territorio sia di prodotti e sia di produttori e di fornitori. Questa ricerca per me non è mai stata scontata legata alla moda ma piuttosto un percorso di ricerca prima di tutto personale. La ricerca e lo studio nel lavoro danno sostanza e non sempre si ha purtroppo il tempo di ragionare sulle cose perché la quotidianità e i bisogni ci trascinano. Sono partita come imprenditore 15 anni fa con un'azienda veramente piccolissima che contava oltre a me soltanto due dipendenti. Oggi siamo in 15 e abbiamo un piccolo orto che ogni anno aumenta varietà e grandezza. Le passeggiate in campagna e il foraging mi hanno con il tempo consentito piano piano di comprendere un po' di più quelle che erano le difficoltà legate all'agricoltura e la necessità di tutelare il paesaggio. L'attenzione dunque alla sostenibilità è stato un passaggio legato incredibilmente alla ricerca di bellezza che il mio lavoro creativo mi spinge quotidianamente a fare. Il senso di responsabilità e l'etica del lavoro ci portano tutti a una sensazione di connessione con ciò che ci circonda ma inevitabilmente. Per quanto i numeri del mio ristorante siano sempre piccoli e la mia azienda rimanga alla fine un'azienda piccola, trovo impossibile non sentirmi connessa e parte di una catena. La clientela poi sempre di più sia quella fatta di turisti ma anche quella locale chiede ed è attratta da un'offerta che sia il più possibile radicata e lo specchio di un territorio. proprio perché il gusto sia in qualche modo lo specchio di un luogo specifico e originale. Credo anche fortemente che il lavoro di ristoratore sia quello poi di comunicare nel modo più onesto e corretto un territorio e sfruttare in questo senso la visibilità che il nostro lavoro ci ci dà. La filiera corta o più corta possibile è diventata una conquista del mio lavoro e non è assolutamente scontata e cerco di valorizzarla attraverso il mio lavoro di cucina quotidiano.